E poi arancioni, io ve lo mando un po' Eh, perché siamo nella lobby, no, sono arancioni, sono arancioni Che truzzi Venga, possiamo fare i kiss I kiss No, io l'unica cosa che faccio è non i kiss, ma faccio lo skis Sono arancioni Vala Facciamo gli skis Quale è l'arancione, con la mia? Dovete andare? Ovunque, vai sempre dritto Oh, mio No, mi riporte Ammazza il porchettaro Oh, li ho presi Quello è un fogo Ah Un cattolo, io sono salito sopra Ah, va bene, è una stranzata Gli sono salito sopra Ma come ho fatto mille? Eh sì, perché hai fatto qualcosa lì Oh, i maiali Sono tornati Ma che fanno qua? Aiuto No, cazzo Vai, il laser supremo Che quanti danni, gli ho quasi fatto duemila Tu Vuoi farci vedere io che cosa gli faccio adesso se lo becco E... Sbom Mille, 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 mille Oh, dubbio Che motaro Oh, ha preso, l'ha preso È stato chiesto Ah, ma perché si era incazzato Eh sì, sì Ah nooo Ah, ci l'ho morto Ah, Max, su questo qua prendi tanti ma tanti parti di behemoth su questo Ma veramente tanti Non ando mancosa a me ma io l'ho fatto al comino Eh no, io ho un saper, tu hai detto non farlo perché è difficile E quindi non l'ho fatto Ah, inizia difficile Perché te ne trovi su e non sai livellare E poi io li ammazzo Sono i Pumba, sono i Pumba Ah, ecco perché sono morti Ah, è già morto È colpa di Claudio Mi fate che curare Finisce subito È colpa di Claudio, finisce subito Mi devo cura, mi devo cura Non comune, non comune, steroidi Va bene Vediamo se c'è quello che ci mi curo Cos'è? Tempra del mio Non capito il cazzo L'abilità caricata del tuo lanterna fornisce più 150 tutti gli slayer buono Eh, ti immagino adesso Max si spaventa perché ce ne stanno Che lì non l'ho mai fatto, fa ma quante cose ce ne stanno? 20 Ah, che culo Salve Cioè io ho spaccato qualcosa, ma che è? Ah, che culo, sono tutti e due tipi normali Sì sì Oh, distrutto Uno, due, tre Sì Boom, pure l'altro Ma non lo prendo troppo lontano, per pochissimo Che m'ho dato, ho sempre detto io Oh, non me li toglie, aiuta Nando, sparami, non mi toglie le api Non te le vedo Ok Eh, guarda, c'è sua Cosa sta? No, aspetta, il carabacca è di tipo erba, eh, non è... Oh Eh Vabbè, vado dal gnocero a sto punto Infatti ho l'armatura sua, io Ah, io ho beneduto, basta che incontro gli slayer Ah, sono buone Ma guarda, il prossimo erist solter Sì Sì, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto Dai, così, Max e te, provate a vedere come, come cazzo è difficile Oh, sì, la colonna si muoveva, si non ha saltato gli piedi No, 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 no Quindi qua non pericoglione, non ho fatto Oh, no, non pensarono Oh, mi ruota la coda Ma chi? La cosa? Io pure la, ragazzi Guarda, è visibile Eh, mi prende, non è giusto Oh, ti è becca, ho schinco io rotto Ti è becca, le colpe sono Uh, che capire Oh, è andato, è andato, è andato, è andato la canzone del Jack De, come ho fatto a video, ha inizio, no? Sì Ma sai chi sembra il Jack Quando tu vai nell'area di, di addestramento che c'è il lion è in pericolo, là Oddio, sono tutti due in pericolo Oh, che droio, sto nato Oh, il Jack sta per morire, eh Allora, ti aiuto No, mi sa che sta morto Molto Che ragazzi è andato Se cazzo di sbittoli non devi vincere Guarda quanto gli sto togliendo io Azz Gioca lui, gioca lui, gioca lui, gioca Azz Dov'è il... È qua Eh... Per mettere via le armi? Eh, le tiene prima... Eh, le mette... Eh, le mette... Eh, le mette... Non so neanche che cazzo ho messo io Vediamo un po' Ma io non ho capito come funziona Fenice Una sola volta per round quando Fenice a terra ottieni invece più 25% ai danni inflitti e recupero vita per 30 secondi Cioè, in pratica è come se avessi i perpi di Bill Sì Penso di sì Ah Vabbè, prendo ogni volta che mi ha morto di niente No Volevi? Oh, no, no, no Oh, ci sono i pei, i cosi Oh, yeah Oh Eh, o c'è andare lì che te shottano, mo Cioè, non andare dentro i cosi che fa lui Chi è che è? Drusker Mi serviva una scagliatonante del Drusker Mi sembra giusto Mi devo un po' curarmi Che è mortato? Ho sempre detto io Che ho fatto? Potenzialmente contro il behemoth Ho fatto niente Ho fatto niente E lui c'è finito su E lui c'è finito su Eh, io voglio dirlo, io voglio dirlo, che c'è l'abilità Ah, ok Che abilità Che aumenta l'attacco, tu vuoi dire Che morta Che aumenta l'attacco Eh, lo freddo tutto adesso Coda, lo sapete E lui c'è finito E lui c'è finito, io voglio dirlo, io voglio dirlo, io voglio dirlo, che c'è l'abilità Che culo, ho fatto la schifata perfetta Uno, due e tre No, c'era con me Slamparale, vai Tiè Ma volevi? No, 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 no Noi non solo, c'erano po' di cosi Le palle Le palle No, 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 se ne è prese quattro, se ne è presi di palle lui Eccolo Quatre palline poi vi ha tole le fama sono glitch no spiaggia ho incazzato bello della pistola ci sono i cosi per terra poca pupazza distrutto a questa è distrutta distruggere l'altro o la quota se se vuole più che mi levato ancora distrutta qualcosa che mi sanno io manco ho visto no quando sono sicuramente sicuro si vuole ammazzano si visce il più 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 buco matto matto non vuole un'altra parte al progetto ma penso che abbia finito non ho dato un'altra altro non so che cazzo ne so penso di aver finito no e basta una schivata perfetto bello io c'ho quello del guaritore cioè prendo il geyser e così uga's kinshot e tiratore amber main o cazzo mi volevi prendere aspetta che è il mio avvicinato no al tiratore il tiratore il tiratore il tirato 8 dio o che cazzo vuoi ma che è arrivata quella roba la ma si sta invocando ma donna quanti danni che ho fatto a tutti ha pure questi ci stanno che palle il micro di fuoco salve metto qua mina e bepiglio tutte e due aia 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 poco dio la mia mina o vecchio dio quello prende tutto la mia mina non esplode ho preso tutte e due no no questa è l'attacco un bastardo si si questo qua si aspetta che ti curo cladi amber main è l'attacco un culo esplodono tutti ma che è successo qui che fa se ne scappa via quello ha cambiato semplicemente zona ma che ti curo faccio prima curare tutti ma perché pigliano fuoco le lame di coso boh 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 ma prima cura tutti perdito lo so lo so lo so eh ma se lui mi piglia mentre eh eh punti vedi eh beh mi sei cazzà eh beh mi sei cazzà ah no vero un po di scudo e poi me blocca ma poi di blocco al corpo ma che la roba di spama prendo guarda questi corticini stanno urco dio quanta roba che ho tirato su un tum 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 mille mille vado aia è quello più forte la ho visto fatto finito anche io voglio andare la no ti scappa vivo prima io mi spiace no è finito eh si lo so non c'è più niente mi so buttato quasi no mi so buttato te sotto ho visto che trovo nella lava madonna tutta essa è la prima volta che si fa tutta essa distrutto distrutto guarda la roba